Quarta corsa a premio Gaire, un miglio per buoni quattro anni, sono in sette al Via, Toccai Fonte, Edoardo Baldi, Terremoto Mark, Davide Cuglini, Tinta Weisel, Mario Manzone, Tursio Peggett, Vincenzo D'Alessandro Junior, Talia Mela, Romolo Sani, Traccia del Ronco, con Mario Minopoli Junior, Teodoranz, Lucio Becchetti, Di Galoppo, Tinta Weisel, cerca di prendere partenza lanciata alla corda a Toccai Fonte, stacca la macchina con Toccai Fonte che cerca di rientrare a Teodoranz che è lanciato all'esterno, poi ancora Traccia del Ronco e Tursio Peggett, Toccai Fonte è riuscito a rientrare alla corda ma insiste a largo Teodoranz che supera di precisione Traccia del Ronco che si accoda al Battistrada, Teodoranz è rimasto all'esterno, viene respinto da Toccai Fonte, il primo quarto però è volato in 27 e mezzo dai due, con Traccia del Ronco a contatto a precedere Tursio Peggett e più indietro invece ci sono Terremoto Mark e Taglia Mail, si è adeguato ora all'esterno Teodoranz, cerca di prendere in mano Edoardo Baldi e Toccai Fonte ma comunque i 600 iniziali sono ancora in 43 e 2, ora c'è ulteriore decelerazione da parte del leader perché Teodoranz si è adeguato all'esterno, può prendere fiato Toccai Fonte giunge a metà gara in 59 e 4, quindi il secondo quarto è stato in un più tranquillo 32 e scarso, cerca ancora di graduare Toccai Fonte quando ci avviciniamo al completamento del primo chilometro che il leader fa in 1'14'7, Teodoranz all'esterno, Traccia del Ronco in corda ma senza spazio, poi Tursio Peggett e quindi l'errore per Terremoto Mark superato da Taglia Mail, siamo al paletto dei 1200 metri raggiunto in 1'29'6 con Toccai Fonte che controlla Teodoranz che è ancora generosamente all'esterno, Traccia del Ronco senza spazio, Tursio Peggett che prepara lo spunto, ha la corda Toccai Fonte all'esterno Teodoranz con Grinta ci prova ancora, Traccia del Ronco senza spazio, Tursio Peggett che può scattare a largo, Tursio Peggett che va al lato di Teodoranz, insegue Toccai Fonte, è murata, Traccia del Ronco, Tursio Peggett insiste, attacca Toccai Fonte, lo rimonta sul palo, Tursio Peggett stampa, Toccai Fonte. 2 minuti e 2 decimi sul mio cronometro, 1'15'1 per Tursio Peggett e Vincenzo D'Alessandro Junior che molto probabilmente hanno giustiziato proprio a fil di palo Toccai Fonte che dopo aver respinto Teodoranz si era svincolato in retta d'arrivo ma vedete Tursio Peggett lo rimonta, lo batte sul palo quasi per una testa mentre per il terzo Traccia del Ronco senza spazio può soltanto battere di stretta misura Tiodoranz per il terzo e quindi dovrebbe essere 4-1-6 l'arrivo ufficioso della Quarta di Capanelle.